Soprattutto il Partito Democratico pensa fin da subito alla riforma elettorale. La Lega Nord che cosa ne pensa? Che questa non è assolutamente una priorità. Noi pensiamo che le priorità siano le riforme istituzionali dal Senato federale alla riduzione dei numeri parlamentari, al federalismo fiscale e istituzionale soprattutto. Ci dispiace perché buona parte del discorso del Presidente eletta è stato incentrato su un buon 50% sulle riforme. Anche sui termini e sui tempi delle riforme si è dato un termine di 18 mesi. Nel giro di qualche giorno il Governo sta già cambiando idea. C'è questa ipotesi di bicamerale completamente diversa dall'impostazione iniziale. formata dalle due commissioni, la prima Camera, la prima Senato, una cosa che non si è mai vista. Non pensiamo che questa sia effettivamente la strada giusta per fare le riforme. E quindi un po' il nostro atteggiamento e questa apertura di credito che avevamo dato fin dall'inizio al Governo, l'ETA in questi giorni sta già mutando e questo ci dispiace perché avevamo puntato comunque sulle riforme ma non ci sembra che questo Governo voglia seguire questa strada che è stata indicata. A proposito di riforme, venerdì in Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare il decreto della sospensione dell'IMU e delle risposte per la Cassa Integrazione. La Lega Nord che cosa auspica? Questo della Cassa Integrazione è un tema importantissimo sia per la Lombardia, per il Veneto, per tutto quanto il Nord dove sono stanziali le nostre imprese. Ricordo solo il dato per esempio della Lombardia che ha ricordato il segretario sono ben 300 milioni da finanziare che non è poca cosa, lo stesso in Veneto. Io penso che questo sia assolutamente una delle priorità. Lo è anche l'IMU, da sempre abbiamo detto che l'IMU è una tassazione che va a colpire la casa. La casa, soprattutto le prime case, non sono dei beni che producono reddito e quindi va tolta, eliminata completamente sulla prima casa. Sugli altri fabbricati, soprattutto in un momento così difficile, crisi economica per quanto riguarda le nostre attività artigianali ma anche commerciali, va sicuramente rideterminata e ridotta drasticamente perché ci sono state anche recentemente delle elaborazioni fatti dai centri studi che indicano come che un po' in tutto il territorio nazionale ma soprattutto al Nord ci sono stati aumenti da due a quattro volte delle imposte pagate quando c'era l'ICI quindi vuol dire che la tassa è ingiusta soprattutto per quanto riguarda la quota che va allo Stato quindi la tassa va abolita e va trovata una soluzione immediata per le nostre imprese.